Benvenuti sul nostro canale. Se ti piacciono i nostri argomenti, su serie turche, attori turchi, news e gossip, che riguardano gli attori delle soppe fiction, iscriviti al canale, e commenta sotto al video. Ed ora, guardiamoci questa chicca. Dove, dopo solo un po' di attesa, vedrai uscire il nostro Gianni Aman, dal palazzo, dove risiede, mentre a Palermo per le riprese di Viola come il mare. A tal proposito se vuoi saperne di più sulla serie, vai sul link che troverai, sotto al video e scoprirai così, altre curiosità al riguardo. Ma torniamo a noi, stiamo attendendo, insieme ad un nugolo di fan, l'uscita di Ian Aman, da questo, Palazzo Hotel, dove risiede per il suo soggiorno palermitano Iaman. Fra un cià che l'altro, della soppopera, Viola come il mare, che sta girando con Francesca Chillemi, di cui vi parleremo a brevissimo, in un altro vodeo, sempre che ti iscriva al canale, e continui a seguirci, come stai facendo. Quando Jeanne, comparirà, finalmente, dopo un po' di minuti, che noi abbiamo velocizzato, per voi. Noteremo come sia veramente, un gentleman, con un portamento importante, ed un aspetto veramente affascinante. Ma soprattutto, malgrado ormai lui sia un divo, mostri molta disponibilità, verso le persone intorno a lui, sia che gli chiedano semplicemente una foto, oppure un abbraccio. Poi pressato dalla security, dopo avere salutato cordialmente un po' tutti, salirà sull'auto, che lo aspettava davanti al portone, ormai da un bel po' di tempo. E lo vedremo, che si avvierà verso il set, delle scene che sta girando per la fiction, Viola come il mare. Poi si allontana salutando tutti i fan che sono lì in pazza, per omaggiarlo, per aiutarci, e stimolarci nella continua ricerca di contenuti per te. Iscriviti al nostro canale e commenta i video, scrivendo cosa ti piacerebbe vedere. Grazie e da presto.